Carissimi amici, carissime amiche, come state? Buon masteria a tutti. Vedete, noi sul canale ogni tanto parliamo di alcuni casi e purtroppo quelli là più importanti che hanno delle novità, li trattiamo anche tutti i giorni. Poi ci sono dei casi che si fermano per la strada perché non hanno novità. Questo mi dà una stretta al cuore veramente forte perché poi io mi ci affeziono a questi casi e vorrei che fosse fatta giustizia. Però poi pian piano tendono ad andare nel dimenticatoio, quindi ogni tanto io ne parlo perché anche la minima novità, la minima notizia serve a dare un senso, serve a dare una speranza, serve a dare appunto la speranza di giustizia per queste vittime che spesso sono donne. Sono donne la cui unica colpa forse è quella di aver amato la persona sbagliata, di essersi fidate della persona sbagliata, di aver voluto bene appunto e di aver avuto attorno un mostro di cui ci si è fidati. E allora oggi volevo ancora parlare di Lorena Paolini. Lorena Paolini, questa bella donna cinquantenne che il mese scorso, il 18 agosto, viene trovata praticamente moribonda, mostra diciamo, in casa dal marito Andrea Cieri che chiama i soccorsi dicendo mia moglie è moribonda, insomma, sul divano di casa. Tutto sta in ordine in quella casa. La pila di vestiti stirati, appena stirati, il ferro ancora abbastanza caldo. E lei sul divano e all'arrivo dei soccorsi sembra, come dire, una di quelle morti improvvise che a me a volte capitano. Però, quello dei soccorsi, nel 118 il medico nota un solco scuro al collo, inequivocabile, e quindi chiama la polizia, arriva il magistrato e sembra effettivamente che quello sia il segno di uno strangolamento. Uno strangolamento che, secondo quello che si dice, sia avvenuto all'improvviso da dietro, che non ha dato scampo alla donna, che non avrà nemmeno urlato poi alla fine, non ha avuto il tempo, perché quel 18 di agosto c'era anche in casa la figlia minorenne che dormiva nella stanza. Quindi non ci deve essere stato un grosso scombustolamento, come si dice, anche perché stava comunque tutto in ordine in casa. È stato inquisito, iscritto nel registro degli indagati per omicidio, il marito Andrea Ciri. Tito male di un'impresa di pompe funerdi, nemmeno a farla apposta. Ora, perché è stato indagato lui? È stato indagato innanzitutto perché non si vede altro motivo, perché si vede che lui ha trovato il corpo e si parla sempre con insistenza del fatto che sia stata vista la sua autovettura rincassata anche alle 10.30, quindi due ore prima delle 12.30. Quindi questo suo rincassare due ore prima sembra che sia stato omesso da Ciri e potrebbe essere teoricamente il momento in cui si compie il delitto, se così è stato. Si vociferava di una lite, lo dice la sorella Silvana, la sorella di Lorena, dice sempre che quella mattina avessero litigato, però sostanzialmente in quel periodo era un periodo buono in cui nessuno dei conoscenti, amici, parenti come periodo in generale dicevano che stavano bene e avevano superato una crisi di alcuni anni prima in cui l'Andrea Ciri si era allontanato, insomma si era separato di fatto perché sembra avesse un'altra storia o un'altra donna, vabbè, queste sono cose loro e poi era stato perdonato dalla moglie, insomma era rientrato e negli ultimi tempi sembrava tutto a posto. Ora, qual è il tormento di questa vicenda? Dato che è stato analizzato il telefono anche della vittima e dalle testimonianze, sempre per il momento, non è un dato sicuro al 100%, ma non è emerso niente nella vita della donna che facesse pensare a qualcuno che le volesse male, a uno stalker, a una storia parallela, niente. Ma cosa è emerso invece? È emerso un movente che potrebbe essere economico. Un movente economico. E parliamo, si dice, di un'eredità, forse si legge di un'eredità di 600.000 euro. Cosa accade? Accade, secondo quello che si legge almeno, che questa suocera, c'è la mamma di Andrea, era sempre stata molto affezionata a Lorena, molto, ma proprio peggio di una mamma vera e propria. Tant'è che quando il figlio anni prima l'aveva lasciata perché era andata con un'altra donna, lei condannava, spadatratta il figlio, lo condannava e stava dalla parte di Lorena e la trattava meglio di una figlia. Per cui, fra le due donne, diciamo, la suocera e la nuora, si era creato un legame particolare, contrariamente, voglio dire, a quelle che a volte si dice, no? Fra suocera e nuora. Però, in questo caso, c'era un rapporto quasi simbiotico. E lei, Lorena, l'aveva sempre assistita, anche negli ultimi tempi, quando evidentemente si era ammalata, perché la donna muore, muore, ve lo ricordo, il 15, 14 o 15 di agosto, quindi 3-4 giorni prima di questo omicidio di Lorena, capite? Quindi muore intorno a Fesacosto, evidentemente per qualche malattia che aveva, e lei, in tutto questo periodo, era sempre stata assistita dall'Orena. Ora, il dubbio qual è? È che dopo la morte, quindi siamo a Fesacosto, 15, 16, 17, può darsi che sia venuto fuori questa eredità, questo fatto dell'eredità che si legge, di una grossa eredità a favore di Lorena. Non solo sotto forma di lascito, sotto forma di testamento olografo, sotto forma di testamento notarile, perché noi sappiamo che c'è una quota legittima che va ai figli, però poi tutto il resto è nella disponibilità. Ora non sappiamo se è stata fatta una donazione in vita, se è stato fatto un testamento olografo, se, insomma, praticamente si parla che, a parte la quota legittima, una grossa quota, si dice, di 600.000 euro, sia stata destinata a Lorena Paolini. Ora, la suggestione, parlo di suggestione perché elementi confermativi al 100% non ce ne sono, ma si legge così, può darsi che questa cosa qui sia venuta alla luce proprio subito dopo la morte della suocera e abbia sconvolto, forse lo stesso figlio Andrea, ma anche l'altro fratello, insomma, altri familiari. E che sia stato anche motivo di litigio, di litigio, di grosso litigio, può essere che sia quella la chiave di volta di una storia che altrimenti non si spiega, perché nessuna posta che è stata forzata, l'ingresso, non c'è traccia di persone entrate da fuori, o traccia di persone che minacciassero, stalker, eccetera. Poi, addirittura, una persona che magari si introduce da fuori, non si sa per quale motivo, a parte che può usare mille modi, ma anche se strangola, voi capite che sembra, si dice che molto probabilmente oltre il 90% delle possibilità è che si tratti del guinzaglio del cane, cioè con tutti gli strumenti di un killer, magari di un assassino, di un balordo che si introduce in casa, che cosa fa? si porta il guinzaglio del cane per strangolare. E sembra proprio che sia stato il guinzaglio del cane usato per strangolare. Così si legge e così vi dico. E questo porta più, diciamo, alla pista familiare anche questo dettaglio qua. Quindi, ovviamente mancano le conferme, ora si sta aspettando il completamento delle analisi tossicologiche, delle analisi su tutte e due cellulari, anche di Andrea Ceri, per vedere se emergono anche in passato qualche cosa. E vedremo. Però la procura è convinta che il momento di questo delitto sia non di natura passionale, come spesso capita, ma di natura di interessi. Forse è proprio questa grossa eredità di cui magari Andrea o altri familiari siano venuti a conoscenza improvvisa abbia innescato una reazione così forte. Poi, questo fatto che la donna non si sia difesa, che sia stata presa da dietro e soffurata, è ancora indice del fatto che lei si trovava in casa con una persona che conosceva, perché altrimenti avrebbe reagito, avrebbe gridato, si sarebbero viste delle cose che andavano a terra, si rompevano, un litigio o qualcosa. Invece no, lì all'improvvisa è stata strangolata. Quindi, molto probabilmente, si cercano elementi che portano ad incastrare proprio il marito Andrea Ciri. Perché non c'è altro, non ci sono altri elementi. Ecco, anche in questo caso, vedete, può essere che domani mattina c'è un balordo, un drogato, un extracomunitario che si presenta dai carabinieri e dice guardate, io mi trovo a passare quel giorno da lì, mi sono introdotto furtivamente in quella casa e così ho strangolato, perché così mi veniva a voi, ho strangolato Lorena Paolini. E allora poi che cosa mi venite a dire? Mi da dire che qui si ragiona e che si era sospettato del marito e che si era detto dell'eredità e che quindi noi non dobbiamo parlare perché poi magari è il balordo che è entrato da una finestra? Ecco. Allora ecco perché io sono contro questi tuttologi, questa serie di persone esperte o pseudo esperte, quelli che io chiamo i nullologi. Perché non si può andare in trasmissione e dire può essere questo, può essere quello, può essere il drogato, può essere il pazzo, può essere l'extracomunitario, può essere il marito, può essere l'altro fratello, può essere il nipoto, può essere lo zio. No. Secondo me chi è chiamato ad analizzare un caso, fermo restando che nessuno ha la sfera di cristallo per sapere la verità. Però si ragiona liberamente, vedete, l'esercizio del ragionamento è un esercizio libero, certamente fatto nel rispetto di tutti perché si ragioni in maniera ipotetica ed eventuale. Però impariamo ad usare la ragione, il razziocinio, il fatto di poter dire le cose così come le pensiamo, come potrebbero essere accadute. Che poi c'è l'imprevisto, l'imprevedibile, come è accaduto ad esempio nel caso di Sharon Verzeny, ad esempio. Ma lì è accaduto così, ma è pienamente legittimo anche in quel caso lì, aver sospettato del fidanzato, eccetera. Perché quando le indagini partono, partono dalla sfera familiare. Ma non è che perché vi può essere l'imponderabile, allora non si deve ragionare, non ci si deve confrontare. Se noi vogliamo diventare delle persone migliori, dobbiamo imparare a ragionare. Non dire, la procura sa. Quelli che fanno indagine sanno. Se hanno detto così, sarà così. Non si mettiamo, non deleghiamo la nostra mente agli altri. Cerchiamo rispettosamente di ragionare. Fa bene. Questo esercizio mantiene la mente allenata e fa bene un po' a tutti. Grazie amici miei. Vi voglio bene, vi ringrazierò sempre, ogni video, per un successo enorme che mi state dando, mi state dando un successo enorme, mai sperato negli anni scorsi. Veramente qualcosa di clamoroso. Vi voglio bene, vi porto nel cuore, sempre, ogni momento. Un abbraccio a tutti quanti voi.